Io sono appena uscita da scuola tra un'oretta parto per Roma e domani ho una bellissima cosa da fare, vi dico solo bacchetta magica. Comunque, oggi sono stata a scuola, ho fatto un'esperienza con un atleta non vedente paraolimpico e è stata un'esperienza molto formativa, molto interessante, di cui se volete poi un giorno ve ne parlo, oggi è un giorno super importante, ho bisogno di voi e adesso vi spiego come vincere una videochiamata con me oggi, come essere videochiamati da me stasera, adesso vi spiego. Allora, oggi è l'ultimo giorno dei Nickelodeon Choice Awards, l'ultimo giorno di nomination e io ci tengo davvero tantissimo, sapete da quanto tempo lo sogno, ve ne ho parlato, si terrà in America e diranno il mio nome in America, quando ci arriva meglio tutte le persone, quindi bellissimo. però ho bisogno di voi, infatti la persona che vota di più, e non è che si ferma il voto quando è schiacciata all'inizio, ma ci sono tutti gli altri da votare e mi manda la prova che ha votato un sacco di volte stasera, lo videochiamo. Quindi scaldate le dita perché avrete tutto il giorno da votare, vi aspetto e vinciamo tutti insieme questo premio perché è veramente un traguardo importante. Grazie. 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 Grazie.